Fondi dirottati dal comune di Tortora a Fuscaldo. E' questo l'allarme lanciato dal consigliere di minoranza alla comunità montana Alto Tirreno a Pennino Paolano, Salvatore Paolino. Uno scippo di risorse pari a 49.000 euro per la popolazione di Tortora e fondi concessi per degli interventi sul territorio di Fuscaldo. Ma ancora di più prosegue il consigliere comunitario, la prassi seguita non è corretta. Di fatti andava prima revocato il riparto dei contributi in favore di Tortora e solo successivamente si dovevano assegnare i fondi a Fuscaldo. Tortora va rispettata, precisa il consigliere Salvatore Paolino, che richiama le possibili responsabilità per quanto accaduto sia il presidente della comunità montana Riccardo Benvenuto e soprattutto l'assessore Settimio Trotta, che prima di decidere sulla concessione di quei fondi avrebbero dovuto confrontarsi con il sindaco di Tortora. Proprio in merito alla questione abbiamo sentito il primo cittadino di Tortora, Pasquale Lamboglia. Ma guardi, noi sappiamo che le cose stanno diversamente, cioè praticamente innanzitutto le casse della comunità montana sono completamente vuote, quindi si tratta di atti che loro hanno fatto in previsione di finanziamenti e non dovrebbero, anzi sicuramente non si tratti di uno scippo ai danni del comune di Tortora o di altri comuni. Noi avevamo dei progetti che sono stati confermati e qualora poi ci sarà questo finanziamento della comunità montana, sicuramente si darà priorità ai progetti che sono già nella disponibilità della comunità montana. Io penso che la verità è a metà, va bene da un lato Paolino a preoccuparsi che tutti i comuni siano soddisfatti nelle richieste, però è anche vero che la comunità montana sta facendo un ventaglio di proposte, però sicuramente farà anche dei bandi, ma nel bando sarà scritto a chiare lettere che non si procederà a nessuna giudicazione qualora i finanziamenti non arrivino dalla Regione Calabria.